Prenderò il discorso che voglio fare un po' alla lontana, parlo a braccio, quindi non mi son preparato il discorso e non so cosa ne verrà fuori, ma insomma volevo dire qualcosa. E allora parto da qui, stanotte ho riletto per la terza volta la leggenda del vecchio marinaro di Colleridge, della quale non voglio però fare una spiegazione, voglio cercare soltanto di ricavare quello che serve a me per un discorso più generale. Ed è questo, c'è, ci sono due personaggi, c'è un convitato che sta per andare a una festa, a un matrimonio, insomma, no, che viene fermato da un vecchio con la barba brizzolata e quale ha un'urgenza? Quello di raccontargli una storia, di raccontargli la sua storia, la sua storia di marinaro, quello che gli è successo durante una navigazione. Ma questo incontro non è casuale, è motivato da una necessità e la necessità è quella che verrà fuori nel proseguo del racconto di questo marinaro, è una specie di condanna, è una specie di condanna che lui ha nel dover raccontare a chi trova, a chi ritiene adatto di ascoltare questa storia, di raccontare la sua storia. È una necessità come una espiazione, come l'espiazione di una colpa, per cui lui ha una colpa. E la colpa è quella di avere ucciso un albatro con la sua balestra, quest'albatro che seguiva la nave e che in qualche modo ispirava dei venti favorevoli, la faceva navigare. Dopo l'uccisione di quest'albatro sono successe tante cose che verranno descritte, insomma cose anche un po' favolose, come un po' strane, come in realtà era la visione anche del mondo nei tempi di Coleridge. Insomma sono successe tante cose per lo più negative, i suoi compagni di navigazione sono tutti morti, sono comparsi degli altri, diciamo spiriti, delle altre cose, insomma ha avuto delle visioni. Sta di fatto che questa è la storia, questi sono gli eventi, i fatti che in questa storia vengono, lui racconta che gli sono capitati dopo che è stato ucciso questo albatro, che lui l'ha ucciso con la sua balestra. E forse questi fatti sono stati anche, diciamo, una punizione per il suo gesto, gli viene detto a un certo punto. Punizione che non è ancora completa e si capisce poi dal continuare di questa storia che il resto della punizione era questo, era questa necessità che era sorta in lui di narrare questa storia, diciamo, tra virgolette, meravigliosa. Meravigliosa, no? Meravigliosa vuol dire che fa stupire, incredibile, insomma. Ecco, e quindi lui individua le persone che possono essere adatte ad ascoltarla, a ricepirla, e in questo caso ferma il convitato e lo costringe quasi, quasi magnetizzandolo con lo sguardo, ad ascoltare questa storia e lui racconta questa storia e il marinaio rimane anche sconvolto in qualche modo in certi momenti di questa storia. E alla fine il convitato, dopo aver ascoltato, non ha più voglia di andare al banchetto. Si dice, nelle ultime parole, adesso non mi ricordo esattamente, ma insomma, che lui è diventato sì più triste, ma più ricco, più ricco in emozioni, in vita, più ricco di vita. Ecco, e questo per dire che le storie così spesso si svolgono, così si raccontano, e questa è la funzione della storia, insomma di una storia. Le storie sono necessarie per la vita, ti permettono di vivere, ti creano quasi una sopravvivenza, un'eternità, come è successo per Shalazad. Shalazad si è salvata la vita, raccontando un giorno dopo l'altro una storia al principe, e quindi guadagnandosi un giorno dopo l'altro un giorno di vita, tenendolo teso, tenendo incuriosito a quello che doveva succedere. E quindi lasciando queste storie anche sospese, in modo da riprenderle il giorno dopo, da far sì che il principe fosse poi curioso di sapere come andrà a finire, cosa succederà il giorno dopo quando lei ne ricomincerà un'altra, e così via, per mille e una notte. La funzione della storia, che non ti lascia più come eri prima, magari ti rende più triste, perché in qualche modo ti mette a contatto con la vita, quando la storia è una storia che tiene conto della vita, calata nel mondo, nella vita, anche se è una storia di fantasia, ma è una storia che raccoglie gli elementi fondamentali della vita, quegli eventi in cui tutti in una vita siamo compresi, siamo appresi da questi eventi. Ecco, allora la storia come fonte di vita e di sopravvivenza, di esistenza e anche di resistenza, capacità di resistere alla vita, alle avversità della vita, e necessità di condividerle, di raccontarle. E questa è anche poi la fiaba, no? La capacità di introdurre alla vita, insomma, di rendere il bambino curioso e capace di ritrovare se stesso e di superare le proprie angosce, che trova poi proiettate nella fiaba, ma che spesso sono a buon fine e quindi lo rafforzano nella sua capacità di credere in se stesso, insomma, di sapere che anche lui potrà, attraverso determinati percorsi, con certe conquiste, potrà superare le difficoltà, potrà essere riconosciuto, potrà essere amato, troverà e vivrà felice e contento. Ma queste storie, se voi, se guardiamo bene, insomma, questi tre esempi che ho fatto, così, insomma, in maniera molto pratica, sono tre momenti che si svolgono in un colloquio individuale, il marinaro con il convitato, c'è la zad con il principe, la mamma, la nonna, il papà, qualche volta, realmente, che racconta al bambino che sta per addormentarsi la favola, la storia, la fiaba della sera, prima di dormire, no? E che il bambino magari si aspetta. Non so, mi viene in mente, ma questa è una cosa più speciale, quella che succedeva, che è successa a me, insomma, nel momento in cui, quando facevo le elementari, avevo un bravo maestro che ci leggeva, mezz'ora prima del suono della campanella per uscire, ci leggeva un passo alla volta certi libri, che ricordo ancora, libri anche, non so, ci ha letto anche San Paolo, per esempio, ma ci ha letto Cuore, ci ha letto Pinocchio, ci ha letto Mabel tra gli eschimesi, insomma, ci ha letto dei libri, appuntate così, ma con voce calma, colloquiale, facendoci stare molto attenti, e quasi sperando che la campanella non suonasse, insomma, no? Quando c'è questa esultanza per l'arrivo della fine della mattinata scolastica. E quindi questa funzione delle storie, no? Di tenerti però questo rapporto, questo legame, che creano le storie tra chi le racconta e chi le ascolta. e questa necessità di storie che abbiamo per la vita, per sopravvivere, per resistere. Come si dice anche in questo difficile momento. Le storie sono un fatto individuale, insomma, il racconto, la narrazione, è anche un fatto di un rapporto individuale che si crea tra la voce narrante e chi ascolta. E qui non si può prescindere, per esempio, dal mezzo della storia. Non so, penso anche ai filò, per esempio, no? Nella vita contadina, insomma, dove passavano anche storie, racconti, racconti di vita vissuta. Ma in piccoli gruppi, in piccole comunità, dove c'era un'atmosfera particolare intorno, anche di silenzio, di ascolto. Ecco, e dove c'era una conoscenza, quindi un rapporto diretto, una conoscenza che si traduceva, insomma, in uno scambio tra chi narrava questa storia, che si conosceva, insomma, che diventava parte del gruppo, della famiglia e che ascoltava. Quindi sono sempre fatti in piccoli ambienti, spesso solo tra due persone, ma se si superano due persone in piccoli gruppi, insomma, qualcosa che necessita di un ambiente e di un mezzo di trasmissione, che è fondato sull'oralità, fondamentalmente, insomma, no? E la voce è la protagonista, non ci sono altri strumenti, tutto deve passare attraverso la voce, la capacità di coinvolgimento che può avere la voce, le sfumature, le tonalità, le intonazioni, insomma, che deve avere la voce per catturare l'attenzione di chi ascolta. E siamo diversi, cioè, l'ambiente è diverso che quello del teatro. Nel teatro la comunicazione passa attraverso anche i gesti, i movimenti, ma il teatro si rivolge a una grande massa di spettatori, insomma, no? E quindi tutto deve essere in qualche modo esagerato, amplificato, esteriorizzato, esternalizzato. Lo stesso tono di voce in qualche modo deve cambiare, no? L'inflessione, insomma, è tutto molto più dilatato, insomma, più esagerato, più amplificato. Poi dal teatro possiamo venire al cinema, possiamo venire a tante altre forme di comunicazione. Sta di fatto che la narrazione della storia, che poi può essere prolungata anche nella narrazione di un racconto o di un romanzo, in qualche modo, può avvenire in modalità diverse, insomma, ma, secondo me, richiede delle modalità particolari, che sono diverse da quelle, diciamo, formali, che può mettere in atto un grande mezzo di comunicazione, come la televisione, come il cinema, insomma, o come il teatro, che sono poi il luogo dell'attore, della voce attoriale. Ecco, l'ambiente per le storie, semmai, nei mezzi di comunicazione, può essere la radio. Non so, io provo l'esperienza, che, insomma, la televisione accesa in camera, non l'accendo mai, ma qualche volta la mia compagna l'accende, e quando entro in camera mi dà fastidio. Cioè, è una voce che sento, qualsiasi sia il programma che trasmettono in televisione, insomma, la voce della televisione mi irrita, mi urta, mi dà fastidio. Mentre la radio, a volte l'accendo per dormire, insomma, ascoltare il parlato alla radio è un altro registro, è un registro più sommesso, più conciliante, insomma, a parte certe cose che passano per la radio. Insomma, ma un racconto ascoltato alla radio, per esempio, ad alta voce, che so io, ad altre trasmissioni, insomma. Ecco, la radio può essere il luogo giusto dove ascoltare. Quello che volevo dire è che narrare richiede anche, secondo me, una, chiamiamolo uno stile, è un luogo, uno strumento, una modalità di trasmissione della narrazione. Passiamo da qui a chi narra. Allora, trovo che narrare letteratura, quindi racconti, storie, libri, non è la stessa cosa che poesia, non è la stessa cosa che dirla in maniera attoriale. Cioè, le figure, la figura del narratore non è per forza quella dell'attore, no? Che proviene da una scuola, da un cliché, da una retorica di racconto, di dire, quindi da una scuola di edizione, da una scuola che ti aiuta a gestire il corpo, che ti aiuta a portare lontano la voce e così via. Non è necessariamente quella dell'attore, non sono i cliché, la retorica, gli stilemi che l'attore impara o che il doppiatore impara nelle scuole di edizione. Non è quello, non è neanche un qualcosa che può essere legato o dipendente anche da altri strumenti della comunicazione, che amplificano ancora di più questa retorica, cioè la musica, cioè gli effetti sonori, cioè le immagini molto complesse, tutto questo che arricchisce in qualche modo e che tiene l'attenzione di una popolazione molto disomogenea. e quando invece c'è il singolo che racconta il singolo a un piccolo gruppo la storia, allora si percepisce subito, non sono più necessarie tante soluzioni artificiose in qualche modo, si capisce subito quando la voce tiene e quando l'attenzione è accesa nei confronti della storia, cioè è la storia che domina e la voce del narratore come strumento, come unico strumento, ma fondamentale strumento, e poi le emozioni che il narratore trasmette perché sono narrazioni che il narratore ha fatto, sono emozioni che il narratore ha fatto sue, quindi il narratore funziona quando c'è nella sua vita tutta la c'è stata insomma raccolta nella sua vita tutta una serie di esperienze, una gamma di esperienze che poi gli come dire gli permette di riversarle poi nel racconto che legge o nel racconto che racconta, nella storia insomma, arricchisce la storia delle proprie emozioni e delle proprie esperienze e allora diciamo il timbro di voce da questo punto di vista che magari è importante nell'attore ma diventa meno importante nel narratore nel narratore quello che è importante è l'emotività che riesce a suscitare insomma come si cala nella storia come la vive dentro di sé e come vivendola dentro di sé la può riversare negli altri e renderla credibile e quindi il gesto del narratore secondo me è diverso da quello dell'attore sono due tipologie diverse tra l'altro come ho già detto insomma quello del narratore è un mestiere che in qualche modo è venuto fuori recentemente con con lo svilupparsi della tecnologia insomma no perché prima è difficile avere dei supporti che potessero concedere di narrare qualcosa che durasse poco più di una poesia insomma no fino a cent'anni fa insomma col 33 giri o col 78 giri non era possibile incidere per più di pochi minuti no e non c'erano certi strumenti che adesso permettono una diffusione così capillare ma il luogo dove nasce il tempo la tradizione insomma che si porta dietro la narrazione è un luogo intimo è un luogo di comunicazione a due in cui il legame che si crea tra chi narra e chi ascolta è un legame importante e quindi spesso ci si affeziona al narratore perché vediamo in lui la figura che in qualche modo interpreta anche le nostre emozioni insomma e ci rimanda le storie secondo anche il nostro sentire tutto questo per dire che insomma questo è il pensiero che io mi pongo quando provo a narrare e dietro questo pensiero poi nasce anche la necessità a volte di riprendere perché poi si cambia nel tempo di riprendere certi racconti o certe storie e di riproporle di riproporle perché magari in cinque anni in dieci anni continuando a leggere storie cambia il modo di sentire cambia anche il modo di interpretare e senti magari la necessità di rifare delle cose che non ti piace più come avevi fatto prima che senti adesso in modo diverso magari più intenso più profondo cioè hai capito meglio magari peggio ma hai voglia comunque di cimentarti ecco c'è anche una necessità da parte del narratore di cimentarsi cioè io ho per esempio delle storie a cui sono più affezionato e che mi verrebbe voglia di di riproporle più di una volta cioè di rileggerle più volte perché in queste storie c'è sento che c'è anche una crescita mia cioè c'è un cimentarsi nel tirar fuori determinate determinate emozioni determinate come dire determinati sentimenti che che si modificano anche nel tempo che crescono che 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 ti fanno venire voglia di di riprovare di ritornare cioè questa necessità di un ritorno ma altrimenti è anche il bambino no? che ritorna sulla stessa storia no? che vuole riascoltare la stessa cosa e che magari non gli viene più letta o raccontata sempre nello stesso modo no? le nonne variavano sempre la storia insomma c'erano sempre dei particolari che si aggiungevano che cambiavano anche questa necessità di di ritornare su alcune storie e appunto ieri sera ci hanno ritornato per la terza volta su questa leggenda del vecchio marinaro come narrare intanto secondo me rifiutando quegli stilemi che sono che sono quelli che che poi si ritrovano in tutti no? e che rendono la voce impostata no? la bella voce impostata dell'attore poi scontata perché la la ritrovi in tutti insomma no? come come anche il la modalità di ormai di trattare la voce che è diventata così importante mi riferisco ai mezzi di di registrazione insomma allo studio a tutte queste cose qua la vedo una cosa più più naif più più semplice insomma dal punto di vista del insomma si può narrare dappertutto no? si narrava nelle stalle si narrava in camera da letto si narra accanto al letto del bambino insomma no? si narra a scuola lo strumento non c'è bisogno c'è bisogno invece di una di una necessità come si dice in quello che ho detto all'inizio no? di una necessità di raccontare insomma chi narra deve sentire dentro di sé la necessità di raccontare le storie deve averla dentro e questo si percepisce la voce trasmette tante cose insomma no? se la voce in qualche modo è imbrigliata in una tecnica che ci deve essere perché la tecnica è comunque fondamentale insomma bisogna conoscere qualche notizia di dizione poi bisogna saperla usare insomma la voce però se la tecnica diventa dominante e così come il discorso vale identico insomma anche per la musica no? il bravo musicista che conosce perfettamente la tecnica no? che non sbaglia una nota che fa tutti i passaggi giusti e che soprattutto li fa perfetti ma è attento come dire ad attirare l'attenzione su di sé su fa sì che si dica guardate quanto quanto sono bravo io no? come come so fare bene tutti i passaggi come so ma è attento a sé e non alla musica che suona insomma non a valorizzare a scavare fino in fondo nella musica che suona mi piace fare tante note perché così si fa notare meglio invece che farne poche più lentamente e secondo la dinamica secondo quello che che il musicista forse avrebbe voluto dire attraverso quella musica quindi più che non far diciamo far arrivare il messaggio del compositore è attento a far arrivare quello che insomma è l'apprezzamento per quello che lui sa fare per quello che lui fa ecco se se questa è la finalità sì è un qualcosa che stupisce è un qualcosa che ti ti prende di getto è il primo momento no? è la fascinazione che che uno riesce ad avere nell'ascoltatore nel caso del musicista insomma però però poi è una cosa fredda rimane in se stessa rimane chiusa lì non non fa nascere non fa nascere emozioni sviluppi riflessione non succede come come è successo nel 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 convitato che ascolta la storia del marinaro no? che nasce più triste perché si sente scavare dentro da questa storia ma più appagato in qualche modo perché perché ha capitato di più della vita e quindi questo è quello che secondo me si deve cercare di raggiungere no? ovviamente non è facile raggiungere ma le premesse della narrazione sono diverse da quelle del diciamo del contenuto attoriale è ovvio che se il contesto in cui nasce è quello a cui accennavo è meno importante la perfezione la perfezione tecnica no? è molto importante la perfezione stilistica è meno importante sono meno importanti quei valori a cui si dà importanza adesso no? sono cose che nascono più nella artigianalità nella nella spontaneità no? più che non nella costruzione no? del del narratore no? nella costruzione nella nella scuola e questo secondo me si si sente insomma no? certo che non tutti lo sentono no? chi è abituato al messaggio insomma che passa attraverso gli spot pubblicitari i videogiochi la televisione il cinema insomma no? è abituato a quelle voci a quelle sonorità a quelle modalità di di racconto insomma difficilmente può adattarsi ad altre modalità più diciamo più semplici più più elementari da questo punto di vista mi viene in mente anche un altro parallelo anche il cinema no? in realtà ha tentato di queste vie adesso le prime che mi vengono in mente sono sono dei tentativi che sono dei tentativi sono delle di neanche sperimentazioni sono proprio è un cinema che è nato anche in Italia insomma no? mi riferisco al cinema del neorealismo non so ladri di biciclette no? in cui l'attore non era professionista e il modo di parlare era come la gente del popolo insomma no? Pasolini per esempio no? allora io mi ricordo insomma quando ho visto al cinema ero ragazzino insomma l'Edipo Re per esempio la gente usciva un po' sconvolta no? perché eravamo abituati ai film hollywoodiani no? con tutta una retorica di di costumi di di musica di dialoghi di gesti no? e poi vediamo l'Edipo Re di Pasolini insomma no? con con quest'attore che viene dal popolo con 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 dialoghi così diversi con con un modo di parlare così diverso con fazze così diverse aveva lasciato perplesso ma perché? perché erano erano le prime volte che si vedeva così cioè venendo da un certo mondo e poi ci si trova di fronte a un'altra cosa si rimane perplessi insomma no? però poi abbiamo imparato a riconoscere che che Pagiolini è stato un genio anche nel cinema no? e che non c'è un solo modo insomma no? quello che è dato dalla proposta che ci fanno i grandi mezzi di comunicazione di massa insomma no? ci sono anche altre modalità che vanno in qualche modo sperimentate e vanno conquistate un po' alla volta che sono apparentemente più semplici più banali però magari nascondono dentro di loro altri valori che non percepiamo che non possiamo trovare poi nella retorica ripeto della grande comunicazione e qui ci vuole un attimo di pazienza cioè si vuole quella capacità di resistere al all'impatto al primo impatto che diventa spesso disarmante no? ad avere pazienza nei confronti di questo impatto di di riascoltarlo di 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 tener duro finché poi scopriamo altre cose insomma che magari non ci saremmo aspettati e che non avremmo trovato altrove ecco allora insomma come come spesso come mi spiego per esempio certe reazioni no? che 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 passano anche nei vostri commenti io ci tengo a leggere insomma leggo con con curiosità i commenti che passano e trovo che soprattutto ultimamente perché insomma ultimamente anche il canale ha assunto un così una sua forma più 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 definita no? però insomma molti capiscono insomma molti di voi capiscono questo tentativo insomma secondo me di come dire di fare quello che ho cercato di dire fino a questo momento cioè di narrare in maniera diciamo personale di narrare con un criterio che non è quello della retorica tradizionale di astenermi anche dall'uso di immagini dall'uso di musiche insomma di arrivare un po' all'essenza della parola no? cosa che la rende più più difficile da ascoltare da sola no? più scarna si tratta di arrivare all'osso e allora non so all'osso a volte però molti capiscono e apprezzano anche questa cosa qua alcuni rimangono sconvolti insomma no? c'è una come dire una schizofrenia un po' nei commenti la gran parte diciamo il 95% sono commenti di chi in qualche modo ha capito e quindi si concentra anche nella storia insomma commenta la storia poi alcuni invece vanno diretti al narratore vanno diretti con con crudezza insomma in un senso che ti ti danno del vergogna ti fai schifo insomma c'è questo atteggiamento quindi questa dualità no? tra tra lo schifo che suscita in alcuni questa cosa e invece la comprensione che c'è nel più insomma no? e anche il coinvolgimento in questo modo di di narrare a volte ti 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 viene il dubbio ti viene il dubbio cosa cosa muove insomma no? quelli che ti dicono fai schifo cioè il fatto solo di non aver capito è soltanto o vergognati non so vergognati per aver raccontato Pinocchio o per aver letto Pinocchio a modo mio insomma no? di cosa si deve vergognare uno per aver letto Pinocchio la inadeguatezza insomma del commento vergognati cioè non mi piace non so ma vergognati perché mi devo vergognare fa la sua strada propone la sua cosa insomma è come commerciante propone una merce non è merce avariata insomma è la sua merce è la cosa che ha fatto lui mettiamo il contadino che vende le sue mele perché si deve vergognare di vendere le sue mele questo non lo capisco ma a parte questo insomma questa dualità di commenti o nasce da non so da un'invidia dal fatto che che hai raggiunto una certa quantità di iscritti per cui insomma bene o male sei cominci ad essere conosciuto e questo non va bene irrita qualcun altro non lo so a me non piace pensare all'invidia che muove sono solo fenomeni di bullismo insomma no adesso vanno di moda insomma no ti attacchiamo perché è così insomma ci divertiamo ad attaccarti quello che comunque è importante secondo me insomma è che che questa cosa che ho cercato di motivare sia capita insomma sia capita dai più insomma da oltre 95-96% delle persone e che non è poco no poi l'altro canone che io cerco di seguire avendo una formazione insomma bene o male anche un po' di tipo musicale insomma anche se non però mi è sempre piaciuto il rapporto tra la parola e la musica che nasce da sempre insomma no da ma insomma nel mondo occidentale soprattutto dal del gregoriano insomma no la parola che diventa musica che e poi con con Monteverdi no recitar cantando e e che quindi anticipa le forme di espressione teatrale il teatro nasce nel nel seicento insomma no anche teatro come luogo come sala da concerto insomma no prima erano soltanto piccoli gruppi erano soltanto oppure erano le chiese ma la parola insomma no la parola è il luogo dove si forma e si esprime questa parola ma poi insomma come come la parola e la musica si assomigliano nella costruzione delle frasi no come la musica segua poi anche nella nella sua costruzione la parola gli strumenti raddoppiano le voci come la frase musicale poi si crei nel nell'ambito della della frase pronunciata insomma quindi della di come si esprime la parola l'andamento della frase musicale quindi le legature quindi il punto dove si deve arrivare con la frase musicale quindi le note che si devono mettere in evidenza che si devono in qualche modo accentuare o punteggiare il ritmo che deve avere la frase musicale quindi l'accelerando il rallentando quindi le pause quindi il luogo dove arriva la frase insomma dove arriva una determinata serie di frasi cioè la cadenza ecco quello quello in qualche modo è suggerito dalla parola ma di ritorno la parola risente anche di di come la musica parla cercare anche di arrivare a una musicalità della parola quando c'è un ritmo quando c'è una musica quando c'è un incalzare quando c'è un rallentare trovare le inflessioni giuste insomma trovare le intonazioni giuste per le frasi trovare le pause giuste questo è anche un motivo di ricerca insomma non è una cosa che che si coglie subito insomma è una cosa sottile è una cosa che che uno ricerca non è mai arrivato non si arriva mai da questo punto di vista non ci sono sempre per questo si sente a volte il bisogno anche di di ripetere no di rifare certe cose perché spesso c'è c'è una musica anche quando non sembra dentro le parole no e a me ha fatto piacere quando Antonio insomma che è un musicista che suonava il violoncello con l'orchestra della scala insomma no mi mi dice che che c'era che trovava una musica che mi ascolta perché trovava una musica nella parola nel mio modo di parlare detta da un musicista questa cosa mi rende orgoglioso perché vuol dire che qualcuno è arrivato arriva insomma cioè può arrivare a a capire questo che non è un punto di arrivo per me insomma è un punto di partenza come diceva Guareschi cioè è un motivo un po' di ricerca quando c'è qualcosa insomma no che che può richiamare una musica anche in poesia insomma no cioè una musicalità fatta di ritmo di melodia di di costruzione di modo di portare la frase insomma no è bello cercare di di arrivarsi e di di trovarla e di renderla di renderla certo non è un lavoro facile insomma non è un lavoro che si può fare che si può fare poi sempre soprattutto quando si legge a prima vista insomma no bisognerebbe poter studiare molto leggere prendersi il testo come fanno poi anche certi certi attori professionisti no come dire dividersolo frase per frase costruire frase per frase eccetera io non non posso farlo perché ho fatto la scelta di leggere molto insomma e quindi anche di leggere a prima vista però insomma quello quello anche andrebbe andrebbe fatto un altro commento che per esempio mi ha fatto piacere no è una persona che che ha senza che io lo sapessi poi insomma no ha proposto su facebook la mia lettura la mia lettura dell'uomo senza qualità dicendo che per esempio invitando ad ascoltarla ma commentando che insomma è letto come lo potrebbe leggere un marito qualsiasi ha letto alla propria moglie insomma cioè non c'è dietro insomma una una professionalità non è un attore professionista che lo legge insomma è una voce che potrebbe essere quella di qualsiasi di qualsiasi marito che alla sera l'uomo senza qualità ha letto alla moglie io dubito che ci siano molti mariti che leggono l'uomo senza qualità ha letto e che ci siano molte mogli soprattutto disposte ad ascoltare l'uomo senza qualità di musi letto dal marito ma se da un momento mi ha fatto piacere no perché vuol dire che sei arrivato a un tipo di semplicità che fa dire che non sei della categoria degli attori insomma di quelli che sono formati che hanno una scuola alle spalle però da un altro punto di vista così mi piacerebbe sfidare i mariti o qualsiasi marito come dice la signora a leggere l'uomo senza qualità così insomma come lo leggo io insomma se effettivamente questa cosa è alla portata di tutti ma ripeto io ho colto il senso di questa cosa e quindi l'ho colto in senso positivo ma mi serve per un'altra riflessione che in qualche modo la la semplicità o l'apparente semplicità o la come dire non è uguale a mancanza di conoscenza cioè quello che studiano gli attori in qualche modo nelle scuole di recitazione come dire bene o male lo conosco insomma lo la dizione salvo errori che capitano insomma tutti quanti ma capitano anche quando scriviamo e sappiamo scrivere no di fare degli errori soprattutto poi se non si perde molto tempo a correzzerli o andarli a rivedere di volta in volta ma diciamo gli elementi fondamentali della dizione li li ho studiati li conosco insomma no e tutte le altre componenti insomma no del il fatto di tener su la voce per esempio no sembra una cosa banale ma se voi ascoltate molti di quelli che leggono insomma leggono per i secchi leggono per e leggono anche magari con dotazioni strumentali insomma registrano in studio insomma si sente no che hanno una qualità audio da registrazione in studio no e poi ascoltate come 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 leggono anche questa hanno queste belle voci insomma impostate importanti insomma no però voi sentite che che non tengono sulla voce insomma tener sulla voce cosa vuol dire e questo gli attori lo sanno bene perché lo studiano insomma perché tener sulla voce vuol dire non non partire con la frase forte sparata e poi scendere quando voi vedete il il grafico il grafico di questo tipo di voce vedete un triangolo no vedete che la frase viene cominciata forte e poi si spegne e le ultime parole le sentite appena e allora sentite sempre delle cose e allora fece una cosa così e domani succedeva che così e poi ecco sentite una serie di successioni di frasi che sono di questo tipo alla fine sono di una noia bestiale no ecco questa cosa sembra banale sembra facile però richiede un lavoro insomma bisogna stare attenti bisogna pensarsi provate ad ascoltare lettori insomma no molta gente che legge ascoltateli anche da questo punto di vista insomma no da come riescono a gestire le frasi e poi le pause insomma no come viene costruita la frase secondo le pause insomma queste sono cose che penso si studino no nelle scuole per doppiatori nelle accademie che so io insomma dove puntare qual è la parola a cui dar maggior significato poi sono delle scelte anche che si fanno ma insomma per dire che che queste cose le conosco insomma cioè le considero ecco se poi però si riescono a conoscere delle cose e a far finta a far finta che non si conoscano si arriva alla semplicità cos'è la semplicità no la vediamo nei musicisti no è quella cosa che Michelangeli per esempio no suona come se fosse tutto così semplice così naturale come se non se non ci fosse studio alle spalle come se tutto venisse semplicemente così per per una sua naturale per un suo flusso naturale ma non è così insomma dietro c'è c'è un grande studio c'è un grande lavoro e c'è una grande intelligenza e c'è un grande pensiero insomma sotto la capacità di rendere semplici le cose come se non ci fosse un lavoro sotto ed è per questo che io diciamo quel commento lo apprezzo particolarmente insomma no quello di dire legge come potrebbe leggere chiunque un qualsiasi vostro marito potrebbe leggervi una storia a letto no ecco arrivare a questo secondo me è un'altra cosa importante è un obiettivo arrivare alla semplicità cioè arrivare a porgere delle cose che sono complesse in maniera tale che non si sente la la difficoltà insomma che non ci sia il peso che non siano pesanti che siano semplici che siano scorrevoli insomma poi ovviamente non è che ci si riesce facilmente non è che ci si riesce sempre ci sono letture alle quali si è più portati altre alle quali si è meno portati l'altra cosa è quella di di cimentarsi un po' in tutti i generi no io ho cercato a mio modo di di leggere di tutto insomma e adesso molte cose purtroppo le ho dovute togliere ma andando nel canale troverete di tutto insomma ci sono testi che sono facili da leggere abbastanza insomma no perché perché tra l'altro sono anche scritti bene i suoi grandi scrittori mi riferisco anche a Dostoevsky a Tolstoi spesso sono facili da leggere perché il grande scrittore ha anche una capacità di dire le cose in maniera o di metterle in frasi che sono poi anche semplici da leggere e così anche i musicisti no grandi compositori insomma per pianoforte anche se scrivono dei brani difficili però conoscono bene la tecnica e le potenzialità dello strumento quindi scrivono per quello strumento in modo tale che un un esecutore attrezzato sia di qualità tecniche riesce a suonare bene quel brano cosa diversa è quando per esempio chi non conosce la tecnica del pianoforte scrive per pianoforte oppure in certe riduzioni per esempio per pianoforte di fatte non da 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 grandi pianisti insomma no per pianoforte di musica orchestrale fatta per pianoforte allora là ci sono delle delle difficoltà che sono quasi insormontabili insomma no perché si capisce quando una composizione è fatta per quello strumento da qualcuno che conosce bene quello strumento e quando invece si suona su quello strumento una composizione che è pensata per altro ecco così spesso chi il grande scrittore sa scrivere e quindi è anche facile da leggere ad alta voce quelli che grandi scrittori non sono oppure spesso non come dire hanno già delle difficoltà nel nel mettere insieme le frasi no cioè hanno una sintassi complicata hanno sintassi complessa hanno e quindi diventa anche difficile a volte leggere all'interno di queste sintassi oltre che oltre che spesso così anche la stessa le stesse parole insomma no la stessa concatenazione delle parole a volte richiede degli esercizi difficili i testi che sono scritti bene poi sono anche facili da leggere e quindi facili anche da interpretare testi che sono scritti meno bene invece hanno delle maggiori difficoltà ma questo per dire è che io ho cercato di cimentarmi un po' in tutti i generi della letteratura insomma no quindi ci ho provato e come tutte le cose in cui si prova si fanno degli errori si si mettono cose più buone meno buone insomma ma d'altronde insomma ripeto non essendo non dovendo vendere niente non c'è per me la necessità di di creare un prodotto buono a tutti i costi insomma no che deve fare concorrenza a tutti i costi insomma no è un po' una vetrina no dove uno mette quello che ha e frutti vendono no a volte trovi della cosa trovi della frutta più buona della frutta meno buona più bella da vedere meno bella da vedere magari quella meno bella da vedere è anche la più buona ma trovi quello che trovi insomma no vai e scegli insomma e se non ti piace vai da un altro fruttivendolo no sentivo invece che nei supermercati invece la l'esigenza è diversa l'esigenza di avere tutte le cose che si presentano molto molto bene no e dopo magari quelle cose non hanno nessun sapore non valgono niente però c'è l'esigenza di di presentare le cose sempre nel modo migliore le più belle possibili no e quindi di di accontentare l'occhio più che non poi il gusto e quindi questa insomma è anche un'altra caratteristica e poi anche anche la musicalità per esempio no a volte anche in testi non so leggevo che ho avuto voglia di leggere il pavese che mi piace molto lavorare stanca per esempio anche in quei versi che sono apparentemente prosaici tu ci senti una musicalità ci senti una musica ci senti un ritmo ma hai bisogno di seguire determinate determinate cose che il testo ti suggerisce sono cose che non sono scritte uno ci deve le deve sentire o le sente o non le sente insomma come come senti la musica all'interno di una filastrocca per esempio no è il ritmo che ti richiama quella filastrocca insomma queste cose devono venire naturali insomma se vengono naturali allora sono anche semplici e se si è semplici si dà l'idea di come dire di non appartenere alla categoria di coloro che hanno studiato l'importante è che poi invece lo studio si traduca o arrivi secondo me alla semplicità teniamo conto che poi chi narra non ha a disposizione i gesti non ha a disposizione tutte quelle altre cose che ha a disposizione l'attore e quindi ritorno al discorso iniziale tutto si deve tradurre nella voce nelle piccole inflessioni che può avere la voce e la voce se ben condotta non è mai una brutta voce insomma quello che cogliamo nella voce non è non è quanto sia bella la qualità quanto sia bella la profondità di quella voce oppure se siamo una voce di cioè cogliamo uno lo stato emotivo della persona che che parla ne cogliamo lo stato emotivo e poi cogliamo tutta la vita che ci sta dietro è come è come un volto no? nelle rughe del volto nell'espressione del volto cogliamo molto di più di quello che quella persona ci vorrebbe far capire ci vorrebbe dire capiamo soprattutto quello che non dice ci vediamo anche la sua storia in qualche modo ci vediamo la sua disponibilità la sua chiusura la sua apertura leggiamo negli occhi se c'è il voce o se non ce n'è ecco così anche nella voce insomma sentiamo percepiamo delle delle cose che possono arrivarsi possono arrivarsi e possono farci star bene perché in qualche modo interpretano il nostro sentire o possono arrivarsi possono farsi star male perché in qualche modo mettono in luce delle cose che noi rifiutiamo in noi stessi insomma no? un grande meccanismo che facciamo un grande lavoro che facciamo è quello di rimozione no? di rimuovere tutti tutte le negatività che sentiamo dentro di noi spesso di attribuirle all'esterno no? di proiettarle in altre cose ecco allora che ci può arrivare qualcosa che ci disturba e che rifiutiamo perché perché proprio ci disturba perché si riporta alla coscienza certe cose che noi vorremmo ottenere lì giù in una situazione inconscia profonda non le vorremmo vedere insomma no? e allora trovi anche chi magari ti scrive ma questo succede anche nel gruppo di lettura no? che che ti dice no ma noi vogliamo soltanto vogliamo sentire anche cose belle cose edificanti però poi non ti scrivono non ti dicono cosa vogliono sentire no? perché in realtà se la letturatura è vita è difficile trovare cose che siano solo edificanti le cose solo edificanti sono cose false persino i Vangeli ci parlano di morte di sofferenza ci parlano tutto insomma tutto quello che è vita è difficile trovare un libro in cui non non ci sia la parola morte per esempio in cui non ci sia un personaggio che ama che soffre che è rifiutato che si consuma che si logora qualcuno che muore un lutto che viene elaborato una separazione sono tutte cose che sono dolorose ma sono tutte quelle cose che che fanno parte della vita insomma no? quindi semmai quello che è edificante o quello che potrebbe essere edificante è come il protagonista supera quella situazione di crisi che però ci deve essere presente nel romanzo ma come nel romanzo nel racconto in tutte le opere nel film a teatro insomma c'è sempre un qualcosa che che crea prima una sofferenza che poi viene elaborata e che poi magari sarà sarà frutto di di redenzione sarà frutto di una conquista sarà frutto di una crescita ma pensare alla letteratura come un luogo esclusivamente edificante in cui si possono soltanto trovare delle cose piacevoli insomma è una è una cosa ingenua insomma no perché è come dire io voglio vivere una vita soltanto fatta di di gioie insomma di piaceri quindi vuol dire rinnegare non non voler elaborare la morte la morte degli altri la propria morte voler dire non non voler elaborare la sofferenza pensare che si possa avere sempre tutto e non essere mai privati di niente è una vita insipida una vita che non che non c'è si deve imparare a confrontarsi con con le cose con con i problemi con e con la sofferenza e è dal confronto con queste cose che noi ne usciamo insomma vittoriosi o perdenti ma ne usciamo comunque arricchiti ritornando poi al discorso iniziale e a come si conclude con le parole del convitato ecco una buona giornata arrivederci